Musica Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi, porca miseria, sembra ieri che mancavano 4 giorni Forse perché era proprio ieri, all'arrivo della season numero 4 Stanno veramente venendo a galla un sacco di informazioni e nel video di oggi ve le dirò tutte Alcune sono vere, alcune purtroppo sono fake, quindi attenzione a quello che leggete Parleremo ovviamente del mini evento di ieri alle 16 e leggeremo tutto il continuo del fumetto Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator Xyuderone Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno Mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto Di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi Che è proprio ovviamente il tweet ufficiale che arriva nella pagina di Epic Games They cannot defeat him without working together Innanzitutto vuol dire loro non possono vincere contro di noi se non lavorano insieme La cosa è davvero molto interessante perché Dei vuol dire loro quindi già si parla di più persone che potrebbero entrare a far parte della season 4 di Fortnite Sappiamo che abbiamo già letto ovviamente nei due video precedenti che vogliono in qualche modo conquistare la nostra mappa Che è in pericolo e ovviamente prenderne tutte le risorse Immagino che la base, la storyline della season numero 4 sia quella ovviamente di difenderla come è giusto che sia Abbiamo un'immagine più ad alta definizione di quello che era il teaser di ieri La X con Jones i ragazzi che come vedete vi ricordo dopo aver sparato all'Araldo a Thor Si piglia una martellata in faccia che direi merita anche abbastanza in quanto Thor ha sempre detto che non era contro di noi Quindi come abbiamo fatto nei due video precedenti andiamo a leggere insieme il continuo del fumetto Eravamo arrivati qua dove c'era la bomba la lucente che diceva Ripeto non ho nessuna intenzione, questo è Thor che parla, di farvi del male Sono appena arrivato, non ho il controllo, non ho il controllo del tuo popolo Perché gli viene addosso poi il gatto con il suo motorino, quello che volete ragazzi E dice vi prego sono venuto ad avvertirvi, sono dalla vostra parte Niente da fare, Jones gli spara, c'era l'Inx e la banana che gli sparano Quindi purtroppo non ha potuto evitare il peggio E andiamo avanti con le nuove pagine dove appunto viene detto Questo sono io, salve, che cavolo ci faccio io qua? Ponete fine a questa follia e prestatemi ascolto, dice Thor Un grande male sta per giungere e sento che il vostro mondo sta già cancellando i miei ricordi Quindi Thor attenzione, problemi di mente per Thor Come vedete tutti lo attaccano, il nostro Raven gli spara un altro colpo Che lo prende probabilmente sul braccio del martello Addirittura lo va a colpire, come vedete in questa immagine Ci si mette anche la banana che però piglia una cazzottata in faccia Prepotentissima e Thor dice Ho detto Basta! E come vedete ragazzi Con il martellone riesce, sapete che il martello di Thor vola A divincolarsi dalla presa dei giocatori Sta arrivando qualcosa Qualcosa che nessuno di voi sarà in grado di sconfiggere senza il mio aiuto Perché io sono il dio del tuono Re di Asgard Io sono... E purtroppo cade in un vuoto mentale Io sono... Sembra non ricordarsi Sviene Lascia cadere il martello E il martello come abbiamo visto Precipita velocissimo sulla mappa Kabam! Distruggendo la terra sotto di sé E aprendo un createre Chi? Chi sono? Dove? Come sono arrivato in questo luogo? Ricordo Dice sempre lui In preda ovviamente a un'amnesia Arg! E la gente continua a sparargli Tu quella con il gatto Mi ricordo di te Rivolgendosi ovviamente Alla bombarola lucente Quindi ragazzi attenzione perché Thor sappiamo dotato di una potenza incredibile Perde la memoria Non si ricorda bene chi è Forse per colpa ovviamente Di... Dell'atmosfera Della mappa che Non era abituato a vedere E quindi lascia cadere Il suo martello Qua mi sembra che ci Possiamo un attimo avvicinare anche al film di Thor Dove lui Non sa bene dove si trova Ma poi quando vede il martello Ricomincia un attimino Cioè lui vuole prendere il suo martello E se ne ricorda E tra l'altro ragazzi Andando avanti con i leaks Sono state aggiunte Anche delle nuove stringhe Che probabilmente Andremo a vedere Non appena sarà pronto Il trailer della season 4 Le prime le avevamo lette ieri Heralds alone Won't save us Technology alone Won't save us Rage alone Won't save us Justice alone Won't save us Gods or Godness Alone Won't save us E Chaos alone Non è won't save you Ma sarà won't save us Molto interessanti ragazzi Queste stringhe Perché Heralds è l'Araldo E quindi è Thor Technology Potrebbe essere Iron Man Rage Potrebbe essere Hulk Justice Potrebbe essere Capitano America Tempesta Gods or Godness Non saprei E Che Chaos Non saprei Se qualcuno di voi È appassionato di Marvel Magari gli viene in mente qualcosa Me lo scriva Qua nei commenti Che così Lo possono leggere tutti E siamo già arrivati ragazzi Al Dona Il Dona Quando fai post Noi dobbiamo ovviamente Metterli nelle news Perché mi mette Sui guazzabugli Che la metà bastano It's all connected Pay attention The story is about To kick into overdrive Quindi vuol dire Attenzione Perché È tutto connesso Con la storyline Di Fortnite Io sono molto fiducioso ragazzi Che Epic Games Abbia studiato Alla perfezione Quello che sarà La season 4 E come si connetterà Con la storyline In principale Delle varie season Che ci hanno portato Ovviamente Al capitolo 2 E addirittura Alla stagione 3 Ragazzi Prendiamo un secondo Per riflettere Siamo arrivati a 14 stagioni Di Fortnite Sempre sulla cresta Dell'onda Mamma mia Andiamo avanti a parlare Del prossimo Argomento di oggi Perché in realtà Questo è un elenco Di tutti I teaser Vi ricordo che Ne mancano ancora due Se non sbaglio Che andranno A completare La parola Nexus Se non ricordo male Ogni teaser Ha dentro Un eroe Quindi c'è Thor Abbiamo visto Poi Jonesy C'è una parte Ovviamente Del fumetto Che stiamo leggendo E vi ricordo Anche un'altra cosa Lo avevo anche scritto Ieri su Instagram Ma nelle ultime ore Si è rivelata Purtroppo Una notizia fake Quindi Avevo scritto Che ci sarebbero stati Due battle pass Nella season 4 Non è assolutamente vero Ci sarà il classico Battle pass Con 950 V-Bucks Il costo Per ottenerlo E che avrà ovviamente I classici 100 livelli Prima però di salutarvi Volevo farvi vedere Innanzitutto In game Il martellone di Thor Ragazzi Che ovviamente È stato decriptato E poi anche se lo avete visto Insieme a me ieri Oppure avete visto il video Uno spezzone Di come si presenta In game In realtà Non è proprio un martellone È un martellino Perché è piccolino Ragazzi Però con una potenza Incredibile Crea un cratere Vicino a Borgo Bislacco Vicino al laghetto Dei flopper E qua lo possiamo vedere In un'altra immagine Quindi ragazzi Finalmente Arriva In game La prima Il primo elemento Collegato agli avengers Sappiamo anche Che fra poco Quindi se non è oggi E domani Dovrebbe aprirsi Un secondo Rift In cielo Che sappiamo anche Si collegherà Con il rift Che già è presente E molto probabilmente Faranno parte Di quello che mi auguro Sia un mini evento O comunque un evento Che chiuda la season 3 E porti alla season 4 C'è da dire Che non sappiamo Assolutamente nulla Nessuno ha mai parlato Di eventi O non c'è l'evento E sarebbe la prima season Che si chiude In una maniera Proprio anonima Passatemi il termine O altrimenti È tutto criptato Anche se però Non ci sono dei pack Che non sono stati decriptati E per terminare Ragazzi Prima di salutarvi Volevo semplicemente Farvi vedere La lunghezza Di tutte le season La season 1 Del capitolo 1 49 giorni La season 2 69 67 71 76 Come vedete ragazzi La season 3 Del capitolo 2 Diventa la quinta Season più corta Di sempre E come sappiamo benissimo La season 2 È durata 118 giorni E la season 1 Ne è durata Ben 128 Quindi siamo A una cinquantina Di giorni di distacco Mi piace questa cosa Io apprezzo Le season corte Speriamo che Non ci deluda Io per oggi Vi ringrazio tantissimo Per avere guardato Questo video news Mi raccomando Non dimenticate Di iscrivervi Ai miei canali Lasciate un bel like E a me mi trovate Proprio adesso In live su twitch Ciao